Il messaggio che diamo per questa Pasqua è in collegamento con il Giubileo che Papa Francesco ha indetto quest'anno. La Pasqua ci ricorda la misericordia di Dio, il suo perdono. Allora il messaggio che diamo per questa Pasqua è un messaggio di confidare nella misericordia di Dio che non abbandona nessuno, di riconciliarci con Dio, di riconciliarci con noi stessi, di riconciliarci con gli altri. Che la pace possa diventare veramente un giorno in cui noi possiamo vivere quella vera pace che Cristo ha portato con la sua passione, morte e risurrezione.